Francesca Cipriani da Bollino Rosso a Verissimo Durante l'intervista con Silvia Tofanin insieme al neomarito Alessandro Rossi l'ha subretta alzato il sontuoso vestito azzurro lasciando intravedere le sue parti intime a quanto pare la pupa non ha indossato gli slip Un dettaglio che è stato poi ripreso da striscia la notizia Avete notato Francesca Alzando si è lasciato intravedere la sua Sharon Stone affermato il conduttore Zio Greggio ricordando il celebre film Basic Instinct Poi una battuta finale Ma dai avete visto male sicuramente la Cipriani ce l'ha le mutande Sì a casa Grazie a tutti Grazie a tutti